Si sta un po' agitando, lui si chiama Argo ed è il nostro piccolo cucciolo di pastore tedesco che adesso cercherà sicuramente di rinfilare il musetto sulla farina perché non riusciamo a farlo stare fermo 7 milioni sono i cuccioli che abbiamo a casa e sono appunto, adesso lui va a fare le sue cose e sono milioni i soldi, gli euro che noi spendiamo per occuparci di loro ecco, intanto cerchiamo di metterlo qui con sua sorella Brida almeno magari stanno un po' insieme e si agitano un pochino di meno